nuova gaff ieri 26 aprile 2021 all'isola dei famosi operata da parte di Ilari Blasi una nuova gaff piuttosto divertente piuttosto simpatica quindi ironica che non è passata inosservata infatti pensate che Ilari doveva dire l'isola dei primitivi invece avrebbe detto diciamo così al posto di quel primitivi proprio positivi diciamo quindi che ci sarebbe stato questo lapsus freudiano già da dire divertente piacevole ovviamente risata all'interno dello studio ma Ilari Blasi da brava conduttrice qual è ha subito cercato di sedare ogni tipo di eventuale polemica e ha utilizzato lo strumento eccellente chiamato auto ironia uno strumento utilissimo come nel caso in questione come nel caso di specie che è davvero di grandi grandissimo aiuto di efficacissimo aiuto l'Aleandro narratore italiano di Roma è tutto iscrivetevi al canale commentate attivate la campanella mi raccomando per non perdervi alcun video ci vediamo al prossimo una buona giornata una buona sera da voi